messageri e con questa la san giovesa concludiamo buongiorno questa è la san giovesa la san giovesa è nata nel 1988 qui si deve vedere qui c'è la firma e qui c'è scritto da fellini da fellini c'è una bella storia da raccontare su questa scultura qui perché questa scultura ha dato il via a tutti i multipli che ho cominciato appunto a produrre dal 1988 in poi prima di allora facevo solo esemplari unici con dei costi proibitivi perché con i tempi che ho io e facendo passare il tassammetro anche solo al costo di un manuale quelli che costavano lire di dio in quel periodo conoscevo torino guerra e lo bazzicavo sia per il fatto del cinema e per tutte le iniziative che lui faceva culturali dove aggiungeva bellezza approfitto così tanto la spoiler perché aggiungeva bellezza anche in certi posti allora uno dei posti che ha fatto nascere è la san giovesa di sant'arcangelo un locale realizzato usando un edificio di un bellissimo edificio medievale con delle cantine dentro favolose dove torino guerra ha fatto fare dei interventi artistici di lavoro ha trovato il nome del locale la san giovesa e da federico fellini si fece mandare un disegno che è appunto questa questa donna qui mi ricordo quando arrivò questo bozzetto in stile i bozzetti che faceva fellini mi ricordo che nel bozzetto questi sono i colori originali che aveva utilizzato fellini nel bozzetto questo divano verde questa donna di color bianco di carne questa collana tutto attorno questa mascherina sulla faccia e aveva un piccolo full art trasparente qui sulle ginocchia però teneva le ginocchia un po' pizzuccine un pochino un pochino elegantine e c'era una frase qui che diceva chi è in realtà la potente cicciona perché la maschera la nascondeva no più qui la potente cicciona perché ha un viso una testa piuttosto piccola a confronto del corpo per cui la proporzione di da un senso di gigantismo di potenza appunto da questo schizzo io fu incaricato di dipingere l'insegna che tuttora c'è se andate a sant'arcangelo a visitare il locale della san giovesa la insegna che è fuori è quella che ho dipinto io magari la cambieranno prima o poi no però per il momento è l'unica cosa che io ho fatto perché dipinsi anche disegnai sui vetri erano otto vetri grandi per otto volte dopo aver fatto l'insegna questo disegno che è l'icona della san giovesa no è questa donna felliniana seduta sul divano per cui io la ripetei otto volte per cui a forza di prima dipingere e disegnarla sulla vetrata del locale mi rimase la voglia di provare a mettere le sculture perché fino a quel momento non solo facevo esemplari unici ma facevo dei modelli estetici dei corpi dove il grasso non era previsto anche se non è esattamente vero mi ricordo che una delle prime sculture che feci feci un uomo piuttosto grasso seduto in un contesto particolare però le donne le facevo tutte diciamo con quei canoni filiformi estetici da modella classica no e mi veniva la voglia di provare a mettere scultura e modellare la prima scultura in creta feci lo stampo in gomma siliconica e poi cominciai a produrla in scagliola in scagliola perché io poi dopo la collana perché dallo stampo in scagliola anche se io gli avevo fatto il modello della collana quando la tirai fuori si staccavano tutte no per cui le mettevo una a una con delle pietre di vetro delle perline di vetro con il foro e con degli spiriti tic 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 facevo tutto questo lavoro qui no e mi ricordo che la prima la prima che feci ovvero la prima prima che la feci più o meno con questi colori molto somigliante a questa gli feci un basamento di perché nello scritto di fellini c'era accennato anche un po' di parquet di legna no gli feci un bel basamento grosso così di un bel parquet antico che adesso proprio una bella impressione e la regalai la regalai a quelli del padroni maggiori del del ristorante del ristorante la san giovese no però ne avevo fatte anche altre tre quattro copie diverse tipo questa qui adesso tolgo questo per far vedere un po' la differenza con le altre perché il fatto di fare i 99 pezzi era per sbizzarrini e dopo con i colori una cosa che non ho detto si vede la rottura del divano qui no è scoppiato qui è scoppiato qualcosa ed è la gomma piuma che ha fatto esplodere il peso della donna sedendosi questa san giovese pur mantenendo il colore della 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 san giovese tradizionale il divano mi sono sbizzarrito farlo in un altro modo e ne ho fatti di tantissimi specie con lo sono veramente sbizzarrite posso sbizzarrini ancora tanto perché la produzione ancora lontana dall arrivare alla conclusione e per cui avevo già fatto tre quattro pezzi e gli chiesi se gli facevo pagare una cazzata mi sembra mi sembra mi sembra 200 mila perché non c'era l'euro ovviamente ancora no quell'euro ci doveva salvare doveva ancora venire il paradiso dove avremmo lavorato tutti di meno guadagnati di più doveva ancora venire adesso è arrivato abbiamo rischiato di perdere per un attimo adesso per fortuna ce l'hanno assicurato vediamo tanti giochi non sono in mano a questi pirlotti qui ma c'è il creatore che zitto zitto manda avanti tutte le cose che devono essere andate avanti compresi loro cosa stavo dicendo che gli avevo offerto per miseria no mi sembra 200 mila lire l'una e loro non le vollero no no non ci interessa gli bastava che gli avesse regalato l'originale e disse va bene ne compro una un subito una perché in quel periodo poi fecero il film burro no con Renato Pozzetto ne compro una di queste che avevo fatto che non volero quelli del ristorante una Renato Pozzetto e un il regista ed altre dopo le vendette perché piacevano da matti andavano via come il pane e in quell'occasione alla San Giovese no io avevo fatto insieme ad altri artisti una delle sette stufe che sono messe dentro la mia stufa del vecchio autunno che non ci hanno pagato nessuno ci ha dato una lira per questa cosa qui in cambio in cambio avevamo potuto che ci avrebbero offerto 30 cene gratis da consumare nel tempo che volevamo no morale io un giorno andai lì tipo un mese dopo no per usare il mio bonus per le cene e ci sono purtroppo li abbiamo annullati non li diamo più finito tutto il lavoro fatto neanche il gesto poetico di una cena offerta no il Maggioli ricco che Donino Guerra diceva i miei amici ricchi rivolgendosi ai Maggioli no i miei amici ricchi beh gli amici ricchi che hai perché come è successo poi quella San Giovese che io gli ho regalato è successo che un giorno gliel'hanno rubata a me mi hanno fatto una una bellissima sorpresa un complimento incredibile perché ho pensato al tipo che ha rubato la scultura non è un portacenere che lo imboschi con una certa facilità in quel senso e borsetto una scultura come questa con in più il basamento di legno mega che gli avevo fatto non era facile imboscare per cui il tipo che ha rischiato di passare un guaio se veniva beccato a fare un furto poi insomma di un'opera d'arte sapendo che non stava rubando uno scultore famoso un botero per intenderci a livello di valore economico no un nome conosciuto ma uno sconosciuto che erano le prime cose che facevo per cui la bellezza è stata talmente tanta che lo ha spinto a rubarla no per cui mi ha dato a me la situazione la conferma che questa bellezza ti tocca nell'animo e ti fa fare delle cose al limite di quello che tu potresti fare legalmente o illegalmente però mi sono detto però voi non avete avuto molta cura di questa scultura se l'avete lasciata di un posto dove comunque l'hanno potuta rubare e mi telefonarono per sapere se gliene facevo una nuova uguale no io gli dice sì ve la faccio voglio quattro milioni non gli ho chiesto una cifra mi devo mettere lì se una pianta rimodellartela di nuovo farti lo stampo produrtela e tutto quanto come minimo mi dai quattro milioni il prezzo minimo base no ma ha detto che mi farebbero sapere sono ancora in attesa e fiducioso che mi potrebbero far sapere presto qualcosa la telefonata risale credo al 91 92 una roba del genere perché poi dopo io quando chiusi con tornino guerra non andai più neanche a visitare il posto perché non aveva più senso farlo però da tutta questa cosa sono nati tutti i multipli che io dovevo fare e questa è stata la capostipite dopo questa scultura qui che mi portò fortuna la vide la vide questo modello a milano marittima uno svissero che traficava in oggetti d'arte in arredamenti particolari eccetera e mi ordinò tre modelli da fare ex novo che voleva vendere eccetera poi sparito non si può fare niente però mi diede l'input per fare i primi tre modelli che sono il modello barbara il modello ma il modello barbara il modello eva e il modello il modello la gitana furono i primi tre modelli che feci dopo mi sono andato e poi continuato a fare i modelli per rifatti me e come sempre nella vita c'è voluto uno scherzo una finta da una parte per farti muovere fare una cosa dall'altra chissà se questa distruzione questo sterminio che è nato da solo sia una finta da una parte che fa succedere una cosa dall'altra o se deve andare nel modo nel quale scoprirò di sicuro è una strada che è stata imboccata e non ha diversione a uno in qualche modo si deve risolvere o con uno sterminio totale o con un'amnistia generale o con una via di mezzo una parte verrà sterminata e una parte verrà riscattata perché alcune sono state riscattate e c'è stata anche un'offerta molto bella per Pasolini l'unica offerta finora che c'è stata non so se da qui al 21 settembre ci saranno altre di offerte economiche per aiutare a non perdere l'unico monumento l'unica scultura fatta a Pasolini degna di un grande poeta quale Pasolini è stato però intanto un bellissimo gesto è avvenuto e quello è già molto importante ok con questo qui finisco di presentare il calendario dello sterminio e adesso mi tengo questa settimana di tempo per vedere che cosa succede che cosa risponderete ma ho già visto che come ho detto nel video precedente adesso lo dico ma poi chiudo ho visto che la come dire l'indifferenza da parte del popolo delle persone è quasi totale quasi totale non so se c'è addirittura un gusto un piacere nel vedermi apparentemente in difficoltà secondo loro potrebbe anche essere è nella mentalità delle ravennate io che sono ravennate ahimè riconosco che quando c'è un ravennate che emerge da qualche parte il primo input è quello di mi sei passato davanti poi dopo vieni su il buonsenso e vedi se vale se vale vale e per cui siamo arrivati alla fine del calendario vediamo cosa succede le istituzioni hanno confermato non che ce ne fosse bisogno e che ne hanno altamente per i baffi di quello che io posso fare per la prosperità di tutta la città e io se la cosa si confermerà come credo me ne andrò serenamente dalla vena felice di avere concluso un periodo che mi ha dato tanto come crescita ma ora devo muovere le tende non so dove andrò non so cosa farò ma lo scoprirò lo scoprirò finché avrò vita finché avrò vita continuerò a spenderla nelle parentesi che finora mi hanno accompagnato perché non ho mai avuto mancanze ma i buchi in momenti difficili certo 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 però in quei momenti difficili si è visto quanto era forte la conoscenza quanto è stato in grado di tirarmi fuori tutte le volte dai pasticci in maniera sorprendente tutte le volte magari ne parlerò di queste belle esperienze della conoscenza con il maestro vivo per far capire perché sono così determinato e non mi vergogno a dire che l'unica persona che merita l'ascolto che merita di essere seguito per me al mondo è a prendere la valla e le conosco di persone importanti tante anche valide ma come prendere la valla non c'è nessuno ho bisogno di raccontare qualche cosa che adesso non è il caso ma che mi piacerebbe raccontare presto perché è un piacere per me farlo soprattutto per me perché tutti questi video che ho fatto dello sterminio li ho fatti seguendo sempre il classico filone del io sono uno spettatore che ha bisogno di capire cosa sta succedendo e ho visto che fare questi video mi è servito nel presentare le opere ho scoperto anch'io dei significati che sfuggivano nella mia razionalità ma che non erano sfuggite al mio essere e questa è già una cosa molto bella che non fa altro che dirmi vai avanti qui ho finito queste sono le san giovesi ce ne sono due in sterminio per 200 euro potete avere il valore di 800 euro a occhi chiusi e non pentirvi mai di aver fatto uno di questo del genere se ne le comprate e lo sterminio viene nullato spero tanto di farle vedere a chiunque che le possono toccare possono mangiare in tavoli dove queste sculture sono lì e ti fanno compagnia e ti portano anche fortuna ok qui finisce il calendario dello sterminio a voi la scelta se firmare se riscattare se fregarvene se continuare a darmi questo messaggio chiaro di grazie non ci interessa la tua compagnia sei libero di andare io vado senza nessun rammarico di potermi dire in futuro beh potermi almeno chiedere cosa ne pensavano lo sto chiedendo sto vedendo e il messaggio è chiaro ed è questo che volevo chiarezza perché con la chiarezza non hai mai problemi vi saluto e vi bacio al profondo del mio cuore se mi avete ascoltato con piacere o anche con supportazione vi ringrazio di avermi ascoltato perché vi avete dato un motivo per mostrare la mia o pazia o genialità o mediocrità chi lo deciderà sarà come sempre il tempo buonanotte a tutti messaggieri selfie aah messaggieri aah messaggieri aah